let's go bitches una piccola intro al video scusatemi se questi due giorni non sono stato in streaming su mlg oggi cioè tra poco tornerò in streaming su mlg sono stato fuori due giorni per staccare un pochino come sapete dalla monotonia o comunque dall'essere sempre connessi e vivere in un mondo sempre connesso sono stato comunque in un posto fuori diciamo in abruzzo siamo più precisi vicino il gran sasso dove nemmeno prende internet sono tornato ora come state sentendo questo video e voglio fare una piccola intro tra poco streamerò su mlg.tv penso di streamare dall'alto call of duty di fare qualche scream o comunque qualcosa con i subs e la seconda cosa di cui voglio parlarvi è di questo video che state per vedere come avete visto dal titolo si tratta di destiny è una partita in pvp dall'altro di livello molto alto giocato assieme dall'alto uno youtuber molto famoso che tanti di voi conoscono ed è deluxe dimela godo e assieme ad altri miei amici con cui facciamo e ci divertiamo a fare pvp assieme qui su destiny quello che voglio chiedervi è questo vi piacerebbe vedere qualche gameplay di destiny da qui ovviamente a novembre o comunque pure via avanti perché vediamo come sarà la nuova espansione di settembre ma per gameplay di destiny intendo comunque tips and tricks migliori armi da usare migliori diciamo talenti da scegliere per la classe che uso io partite di livello alto nel crogiolo cioè in pvp come prove di osiride diciamo fatte in un certo modo con le sfide o cose del genere quindi se vi piacerebbe qualche gameplay competitivo di destiny intendo della parte dedicata al crogiolo al pvp che è quella che più mi interessa a me parlare quindi fatemi sapere bitches se vi piace questa cosa su destiny vediamo quanti mi piace arriviamo se spolliciate per bene questo video io nel frattempo vi lascio a quello che è un bellissimo gameplay secondo me che ho fatto qui su destiny quindi let's go bitches via il video l'unica cosa bella nel film è che c'è zoda e basta ma la cosa più bella sapete qual è l'arma che voglio veramente droppare lo strumento mita no con quella corri come bolt in mezzo alla mappa oltre che ferma più nessuno si col bilanciamento sarà veramente forte cazzo quello è bellissimo guardate che già si gioca in una visione di confluenza quattro colpi sciotti a una persona sì ma poi la visione c'è una cadenza che è molto alta per essere un prevenzione inizio è proprio un cregione ma infatti c'è lo strumento mita porco di lo droppassi altro che il giallo non porco di questi cazzo ancora lo distruggo col mita schifo tutti i colpi a scolas esatto con mita, con mita lo distruggo io faccio erbio pazzo alla cristiano ronaldo no che cristiano la ronaldo proprio il fenomeno tutto tutto vedi tipo che scuola se gli spari i missili di tu colmi da gli distruggi xd 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 perchè deve una foto degli dlc senza rai per merda secondo me c'erano avrò un fatto di matto la presa 9 seconda che stavolta una cagata di rai non avrebbe più continuato al gioco sicuro tipo stamattina attaccare e distruggere tutti i bersagli stavolta per esempio una merda guarda adesso c'è uno col cecchino che ci ammazza adesso guarda un bene giusto io ma lo specchio d'acqua ma c'è un incontro hai visto che c'è questa mappa è una merda torta l'esercizio non è un po' il punto di vista di per te no c'è sotto io ho best e pp e non è di dove siamo sconati noi mi sa, no. Beh, dovrebbero riuscire lì. Secondo la logica di code, infatti. A me dopo un'ora mi vale qui. Si vede che i creatori di code hanno messo la loro sporca mano su questo gioco. Activision di merda. Sì, e se le spavano si faccio proprio alla code, c'è una merda. Oh, ma questo? Oh, ma questo questo è un po' di stranato, è un po' di prima la cazzo. Per esempio, un po' di un po' di uno. Il primo è un po' di 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 bella paura questo noto che è stato fatto ma guardia paracetua qua che fino a dire mi cittadino allora morì figlio di tutto tanto lo avrà, non ci vuole muore muore, muore, muore 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 però muore 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 metti di maturata canella 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 nonostante io come lo preso in testo po nonostante con la ventana direi sembrano nonostante 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 ma nonostante non è tutta la riunione che nonostante ah no 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 finiti di colpi ma che rimane a tutti io non c'è il suo lavoro di maria c'è il suo nome di voler armato il suo primo la madre del terremoto ganta il quale fa del mondo occhio dell'alberto il quattro lavoro accanto arriva un piano di valore anche disponibile di cazzo di sicuro no no io mi affaccio, se arriva gli butti una bomba 9 in buco e tu non muori, noi si però no mi sono sparato un colpo di l'importante è che io sopravvivi nooo non perchè non ho visto una briga dice oh quello è sponato oh random un po' bello un po' bello no un bel colpo in in bocca non c'è il mio porto si trova ma questo gioco ma voglio farlo cazzo è illegale c'è l'ordine non farlo non più un po' non vuole un po' ma come erano come non più che prima era scoperto c'è un po' un'altra supera poco a cazzo 19 bella perchè c'è sempre quelli colpi io voglio buttare su cosa stagione alla quale niente cioè quel motivo casinale diciamo la capo show 4 non ho fatto che la mia carattina ma la città la casa. che ha fatto il tuo giocatore ha fatto il tuo giocatore ho fatto il tuo giocatore non è un problema ma la cosa è fatta la proposta la ricerca l'alba ma come ne finiti in tutto quello che non sto muore ma quando non muore non lo so se ti va di più di più per ammazzurri che vuoi nel senso che per amare eeeh basta no devi decidere devi decidere il troppo 15 ho un ciclo di disagio di persone ragazza andando tutti i tuoi porco 2 chi è? dove? perché ho fatto indistruttibile ho fatto indistruttibile ho sbloccato no non sono mai morto bella e da metà partì e da metà partì e da metà partì che non c'è più colpi no io avevo tipo 15 colpi shottavo la gente poi tipo ho preso altri 10 colpi da non so dove quindi ho ripreso a 17 e 0 no m'entrata è entrata una coccinella in camera oi forse non è una coccinella è stato deservista cazzo cazzo questo animale no ho fatto 9 e 2 sono fortissimo cazzo questo cazzo questo cazzo no siamo una squadra troppo forte è slight è molto slight queste partite molto partì crescere il prossimo anno cazzo questo cazzo cazzo